Dopo l'enesimo litigio tra le mura domestiche, tra marito e moglie, lei si rivolge alle forze dell'ordine per chiedere aiuto, ma anche lui si reca in caserma per continuare ad inveire contro la moglie e con un bastone colpire il cancello d'ingresso dell'area militare, danneggiandolo. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento, un 46enne di origini stranieri è stato fermato, assoleto dai carabinieri della locale stazione e dai colleghi di Bagnolo del Salento, è condotto in carcere al borgo San Nicola di Lecce, così come disposto dal pubblico ministero di turno. La malcapitata, una donna di 30 anni, stanca dei continui litigi del coniuge all'insegna di vessazioni per futili motivi, ha chiesto aiuto ai militari di soleto, ma nonostante ciò anche lui si è recato in caserma, rimanendo all'esterno e continuando ad offendere la donna, è come se non bastasse, ha poi afferrato un bastone e colpito il cancello d'ingresso della caserma. I militari hanno provato a calmarlo, ma lui si è scagliato anche contro di loro ed è stato bloccato prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Due dei carabinieri presenti hanno rimediato delle lesioni e hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118. Alle forze dell'ordine la donna ha raccontato di essere stata vittima di maltrattamenti e lesioni personali nel corso degli anni, è stata così messa in contatto con un centro antiviolenza della zona e assieme ai tre figli minorenni è stata condotta in una struttura protetta lontana dall'uomo che per il momento è rinchiuso in carcere.